Ragazzi, fa un caldo che voi non potete neanche immaginare, c'è un caos che anche quello è inimmaginabile. Guardate alle mie spalle e guardate alle mie spalle da quest'altra parte. Questo è il carro in cui sfiderà Lisa, verrà qua al centro soprattutto. Noi stiamo attendendo il turno per entrare al Samodromo e c'è tensione, c'è una cosa che sto imparando qua nel Carnevale in Brasile. Questa è la seconda edizione del Carnevale che io vivo. Il Carnevale è allegria e sofferenza. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel piace o anche un bel commento, sempre se mi va. Ciao!